Musica Si occupa del pallone, parte veloce il tiro! Mamma mia che gol! Musica Invesse in campo, prima giornata, l'europeo, belgio contro ucraina Abbiamo l'incontro, Gennaro Buonocore Ecco le squadre che si dirigono al centro campo Sulla nostra sinistra, in maglia celeste, l'Ucraina Mentre la nostra destra, il Belgio L'Ungheria L'Ungheria, scusate E vorrei saluto, pubblico presente E vorrei saluto fra le due squadre Ragazzi, in bocca al lupo Ragazzi, in bocca al lupo In bocca al lupo ragazzi Guardiamo Ungheria, no Ucraina Capitano dell'Ungheria Contro Capitano del Belgio Scelti valla e campo Bruttissima questa battuta Prima giornata Europei SK Che vede affrontarsi il Belgio contro l'Ungheria Risultato di 0-0 per questi primi minuti di gioco Ora seguiremo tutta la prima frazione del match Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.